Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, la Chiacchiesetta, la nuova chiesa, la grande chiesa di Santa Maria delle Grazie, tanti pellegrini che giungono qui quotidianamente per visitare i luoghi di Padre Pio, ma allo stesso tempo anche fare un percorso, un percorso interiore, anche di conversione, come ad esempio era accaduto per una famiglia, ce lo racconta Pasquale Cataneo in questo suo libro, in questo suo libricino che raccoglie un po' di aneddoti, di fatti particolari, non ci racconta e non ci dice il nome della persona, però c'era chi era giunto qui a San Giovanni Rotondo per commettere un omicidio, voleva ammazzare la moglie, infatti si presentò a Padre Pio un uomo che apparteneva a delle bande criminali che quando decidono di fare una cosa senza badare a niente, nessuno la portano a termine con determinazione, freddezza, precisione, un vero e proprio criminale, si voleva sbarazzare di sua moglie, ma voleva farlo in modo che non solo non risultasse implicato nel delitto, ma fosse coperto da un motivo di pietà, allora col pretesto di andare a visitare Padre Pio a San Giovanni Rotondo, convince così la moglie a fare questo viaggio, dove aveva progettato proprio di sopprimerla in una maniera diabolica, racconta Pasquale. Arrivato dunque a San Giovanni Rotondo andò nella chiesa dei Cappuccini, quindi la piccola chiesa, ed entrò direttamente in sacrestia. Padre Pio in quel momento stava conversando con alcune persone, ma appena lo vide si allontanò improvvisamente da esse, andò immediatamente verso quest'uomo, lo prese per un braccio, in modo con un tono forte, e poi lo spinse, lo spinse violentemente verso la porta, come se volesse accompagnarlo fuori, gridandogli in faccia, vattene via, via, non sai che è proibito macchiarti di sangue, vattene. Il malcapitato fuori di sé, sbalordito, preso anche dalla rabbia, lasciò la moglie in sacrestia e corse subito, racconta fuori dalla chiesa, su questo sagrato, tra la costernazione di tutti quelli che avevano anche assistito alla scena, quindi compresa anche sua moglie. Però queste parole, questo gesto di Padre Pio gli si erano talmente impressi nella mente, soprattutto anche nell'anima, che lui non riuscì a dormire per tutta la notte. In questo stato aprì gli occhi sul suo stato di coscienza, capì con orrore i suoi peccati e la grazia gli toccò il cuore. Al mattino era ormai un altro uomo, quindi corse allora in convento, cercò Padre Pio e questa volta lo accolse con grande tenerezza, lo confessò e gli diede anche la soluzione. Poi come tocco finale, prima che lui partisse, gli disse, figliuolo mio, Padre Pio a quest'uomo, tu hai sempre desiderato dei figli, è vero? Caspita, Padre Pio sapeva anche questo. Rimase allora a quest'uomo di dire, sì Padre, è proprio così. E allora poi Padre Pio soggiunse, ebbene, non offendere Dio e un figlio ti nascerà. E di fatti un anno dopo tornò qui a San Giovanni Rotondo proprio per festeggiare il battesimo del figlio che gli era nato e soprattutto per la sua grande conversione.